Buonasera, continuiamo a dialogare di Galileo Galilei. In un incontro precedente abbiamo già visto, analizzato questa figura, l'iniziatore, l'iniziatore di quello che è stato questo nuovo rivoluzionario processo, percorso della storia, della cultura occidentale, cioè appunto quello della scienza, un percorso che ha cambiato in modo radicale in pochi secoli rispetto ai secoli precedenti, quello che nel nostro avviso di intendere la vita, la realtà, di intendere le cose. Sappiamo che non in molti secoli la scienza ha cambiato la realtà e le cose che ci circondano molto più velocemente di quello che era stato in tutti i secoli precedenti, ma soprattutto anche Galileo, abbiamo detto, è quello il quale apre un sentiero nuovo, una prospettiva nuovo del dubbio, mettendo in discussione quelli che erano i principi di autorità, che venivano dai grandi autori del passato, da certe fonti del passato, il famoso ipsedixit, dicendo che il vero libro della ricerca era il libro della natura che c'era aperto davanti agli occhi e la ricerca non andava fatta leggendo semplicemente i libri di Aristotele o i libri degli antichi e prendere le loro frasi come fossero dati indiscutibili, dati dogmatici. Ecco, un nuovo modo di intendere il dubbio e di intendere la ricerca, una ricerca che poi trovava nel metodo, un nuovo metodo scientifico, basato su un momento insieme induttivo, empirico, di raccolta di dati, di osservazione della realtà e anche insieme in un altro metodo, quello che era chiamato sensate esperienze, e poi in un momento logico, razionale, di deduzione dei dati raccolti attraverso la ricerca delle costanti, una nuova forma di sapere. Insomma, il nuovo metodo scientifico che era quello il quale doveva consentire di indagare con un fondamento diverso, o con un vero fondamento, la realtà delle cose. La realtà delle cose in questo è una prospettiva nuova, per certi versi rivoluzionaria rispetto al modo di intendere la vita, sapere così, nei periodi precedenti, nei periodi precedenti. Questa grande rivoluzione è comunque stata, se in campo è preso corpo, se avviata da quella che è stata la rivoluzione astronomica, questa grande rivoluzione del pensiero e del modo di intendere la vita e la realtà, è iniziata da quella che è la rivoluzione astronomica, che era stata avviata da Copernico, Niccolò Copernico anni prima. Copernico che però comunque, ricordiamolo sempre, non era un scienziato di professione, non era un astronomo, lui c'era laureato in diritto canonico, quindi praticava anche questo tipo di interesse anche per un interesse personale, non so come dire, e comunque Copernico aveva effettivamente messo in discussione la teoria aristotelica-tolemaica, la teoria geocentrica, sostituita con la teoria heliocentrica, aveva cambiato la posizione nel nostro sistema astronomico, di pianeti, di quello che era prima il modo di intendere, insomma il rapporto tra terra e sole. Solo che Copernico aveva fatto la sua rivoluzione astronomica, pur importante, da cui poi Galileo parte, però aveva per così dire un difetto, nel senso che non aveva seguito un metodo scientifico. Copernico aveva realizzato questo cambiamento tramite la lettura di testi antichi, aveva trovato, sappiamo, spunti ispirazione in testi che venivano da Pitagorici, Filolao, Aristarco, che avevano detto, avevano già elaborato una teoria heliocentrica, avevano già messo in discussione certi temi rispetto alla teoria astronomica di Aristotele, ma quella che sarà dopo naturalmente la teoria astronomica di Aristotele, ma e poi soprattutto il libro di Copernico è prevalentemente fatto, è un libro essenzialmente così basato su natura matematica, nel senso che attraverso una serie di calcoli ridefinisce, risistema quello che sono gli evidenti errori nella teoria aristotelica, cambiando determinate posizioni di pianeti, ma non c'è ancora un metodo scientifico, insomma mancano le prove, allora semplificando nel lavoro di Copernico mancano le prove, sì perché Copernico ancora non è uno scienziato nel settore stretto della parola, non usa ancora un metodo scientifico e non usa soprattutto quegli strumenti tecnici che consentono una misurazione oggettiva e empirica dei dati naturali, che sono una condizione fondamentale per mettere in campo una ricerca che sia veramente scientifica. Questo strumento tecnico, questo strumento, perché la tecnica è un dato fondamentale nella misurazione delle cose, non si può semplicemente osservare ad occhio nudo fenomeni così lontani oppure senza strumenti dire se è una cosa di un tipo o di un altro, servono degli strumenti per misurare ed osservare, questo strumento per avere un certo tipo di dati sarà il cannocchiale e sappiamo che Galileo nel 609 riceverà questo strumento dall'Olanda, da un fiammingo, un strumento che diventerà uno strumento scientifico che lo aveva fabbricato e lui lo trasformerà e gli darà un valore scientifico. Lui modificherà questo strumento, il cannocchiale che veniva dall'Olanda, lo smonterà, ridefinirà, riposizionerà le lenti all'interno del cannocchiale, aveva delle conoscenze di ottica, le ha anche smerigliate tramite un suo aiutante e le ha ricostruite a proposito anche del nuovo ruolo di cultura, un nuovo ricercatore, un nuovo uomo di cultura anche con il quale ha anche un'esperienza tecnica, mette in campo anche delle capacità tecniche, ecco, e quindi la scienza è anche una dimensione pratica, applicativa e diventerà il cannocchiale il mezzo per le scoperte astronomiche e per trovare le prove alla teoria copernicana che trovare le prove che Copernico a suo modo di vedere, in un certo senso credo di essere ragione, a modo di vedere di Galileo che Copernico non aveva trovato. Ecco, con l'uso del cannocchiale, con un certo rapporto con la tecnica, con la capacità pratica anche dello scienziato, quale abbiamo detto che Galileo in persona smonta il cannocchiale e lo rifà, ma soprattutto lo usa e lo usa con un certo modo, con un certo rigore con una certa metodologia, da questo, dall'uso di questo mezzo nasce in qualche modo il metodo sperimentale, o il predecorpo, quello poi sarà il metodo sperimentale, che unisce teoria e pratica, unisce scienza e tecnica, e questo gli consente di realizzare quelle osservazioni astronomiche che poi lui nel 610 inserirà nel suo famoso Sidereus Nuncius, il raguaglio astronomico, dove indica quelle che sono state le sue scoperte, le sue scoperte astronomiche, scoperte che forniscono i dati empirici su cui basare la teoria. La teoria non può basarsi senza dati empirici nel metodo scientifico, prima c'è una raccolta di dati, poi dopo questi dati consentono di formulare la teoria e realizza una serie di scoperte. La prima di queste scoperte è che la Luna non è un corpo perfetto, ma infatti non è fatta di ettere, come era un po' prevista nella fisica aristotelica, ma è un corpo rugoso, è un corpo da cui emergono avallamenti, crateri, rocce, e insomma è come la Terra, è come la Terra. Uno dei presupposti nella teoria aristotelica è che c'erano quattro elementi nel mondo sublunare, cioè nella Terra, insomma, acqua, terra, aria, fuoco, e poi c'era il quinto elemento, l'ettere è l'elemento perfetto che rappresentava il mondo celeste, ecco, questo non c'è, il mondo celeste è fatto allo stesso modo naturalmente della Terra. Poi si scoprono che le nebulose che dovevano essere il punto finale, il punto perfetto di questo ettere sono in realtà greggi di piccole stelle, non sono questo elemento così cristallino e perfetto. Poi un'altra scoperta molto importante, anche se purtroppo gli costerà la vista perché lo ha osservato senza protezioni, è la scoperta che il Sole ha delle macchie, ha delle macchie perché il Sole è ancora più in evoluzione, cioè probabilmente è composto di gas al suo interno che brucia e questo fa sì che compaiono queste macchie che sono poi connesse alla combustione che c'è all'interno del Sole. Poi scoprirà anche i satelliti di Giove, i famosi satelliti di Giove, proprio nel suo libro li ha disegnati, li ha osservati e li ha disegnati nel loro spostamento. Sono quattro satelliti che ruotano attorno a Giove, pianeti che quindi ruotano attorno a Giove e non ruotano attorno alla Terra. Che cosa vuol dire? Che è possibile che ci sia un pianeta che sia centro a suo modo di un suo piccolo sistema o ci sia così un astro che sia centro di un suo piccolo sistema e quindi poi non tutto in ogni caso ruota attorno alla Terra, invece ruota attorno a Giove, ma poi soprattutto forse saranno le fasi di Venere dove si scopre che Venere è un corpo opaco, assolutamente opaco e che come la Terra riceve la luce da qualcos'altro, si emerge che riceve la luce dal Sole, dal Sole e se ruota torna al Sole, riceve la luce dal Sole, come poi allo stesso modo anche la Terra. Queste scoperte sono le prove, a suo modo di vedere, sono prove naturalmente induttive, non sono prove nel senso completo della parola, nel senso che la scienza spesso poi arriva a un certo tipo di risultato tramite una serie di indizi, non ha la prova finale, almeno comunque che Leo non aveva ancora lo strumento per realizzare questo tipo di prova, comunque sono, a suo modo di vedere di Galileo, le prove che lui cercava per la fine del sistema aristotelico-tolemaico. Non sono solo calcoli matematici, supposizioni, ipotesi o dati che si ricavano da testi antichi per quanto attendibili. Questa cade all'idea della distinzione netta tra Terra e altri corpi celesti, perché è così. E cade, assolutamente cade, cade e cade tutta l'idea che, vi sono una serie di prove che fanno cadere l'idea che la Terra sia ferma, che tutto ruoti attorno alla Terra, che il sistema solare sia un sistema perfetto, che sopra sia fatto di ettere. Sono tutta una serie di indizi che mettono gravemente in discussione o per Galileo danno le prove della fine del sistema aristotelico-tolemaico alle prove che è vero il sistema copernicano. Questo tipo di posizione di Galileo gli procurerà poi un primo richiamo da parte della Chiesa nel 616. Sappiamo che il cardinale Bellarmino lo convocherà e sarà condannato dal santo ufficio, si condanna le teorie copernicane e ci sarà questo ammonimento a Galileo di non parlare più di temi di questo tipo, non sostenere più la teoria copernicana. Poi pare che durante il processo non si troverà più il verbale o non sarà più chiaro questo tipo di verbale, anche se comunque il richiamo sembra che ci sia stato. Vediamo, concludiamo qua dicendo che ecco il modo diverso, ecco il modo dello scienziato, il modo scientifico con cui Galileo in fondo è giunto alla stessa conclusione di Copernico. L'ologhe Copernico ci è giunto per via matematica, razionale, filosofica, e no, invece Copernico, no, ci è giunto per via così filosofica, matematica, razionale, abbiamo detto no, Galileo ci è giunto per un metodo attraverso un metodo scientifico, tramite delle sensate esperienze, delle osservazioni, per quanto complete, rispetto a quello che il mezzo, rispetto ai mezzi con cui poteva applicare in quel momento lì, rispetto agli strumenti che possedeva e che poi hanno consentito di arrivare a un certo tipo di conclusione o di dimostrazione, quello che lui era chiamato, non necessarie dimostrazioni. Mi fermo qua, vi ringrazio per il mio seguito, vi aspetto ai prossimi incontri dedicato al dialogo sopra i due mezzi e i miei sistemi, un libro molto bello, molto bello, dove poi Galileo analizza quello che poi sarà la teoria della relatività galileiana, molto importante poi anche per Einstein, da cui qualche modo anche Einstein prenderà le mosse. A presto, vi saluto, ai prossimi incontri.